Sono 18 gli indagati nell'inchiesta avviata dalla procura di Salerno che sta cercando di fare luce sulle truffe alle compagnie di assicurazioni. Ieri mattina il sostituto procuratore Marco Colamonici, che è il titolare dell'inchiesta, ha fatto recapitare tre avvisi di garanzia ad un avvocato, una segretaria ed un perito assicurativo. Stando a ciò che è emerso dalle indagini, dietro tutto questo ci sarebbe una vera e propria organizzazione che pianificava a tavolino i raggiri da effettuare alle assicurazioni con denunce di falsi sinistri starali. Il tutto per arrivare poi ad incassare risarcimento che non erano ovviamente dovuti e che poi venivano divisi tra i vari componenti dell'organizzazione. Oltre allo zoccolo duro di questa organizzazione ben oleata, vi erano anche altri personaggi esterni che partecipavano in maniera occasionale oppure con maggiore frequenza. Si tratta nello specifico di clienti delle assicurazioni che venivano coinvolti in falsi incidenti oppure vestivano i panni dei testimoni oculari. La procura contesta diversi episodi avvenuti tra Salerno e Ponte Cagnano, teatro di incidenti verificatisi solo sulla carta. L'inchiesta è partita nel 2014 dopo la denuncia effettuata da alcune compagnie di assicurazioni ma stando a quello che è emerso dalle indagini questa situazione è riconducibile anche agli anni precedenti. Sempre secondo il sostituto procuratore addirittura ci sarebbero diversi illeciti ancora in corso. Ieri mattina la polizia postale su disposizione della procura di Salerno ha effettuato alcune perquisizioni domiciliari nello specifico in uno studio di un avvocato coinvolto nella vicenda situato nella zona orientale di Salerno sequestrando tutta la documentazione cartacea relativa alle pratiche di sinistro e diversi file presenti su un computer. Di queste 18 persone coinvolte ad otto di loro è contestato il reato di raggiro semplice alle compagnie assicurative mentre le restanti 10 sono accusate di associazione per delinquire finalizzata alla truffa.